Ennesimo furto ai danni di un'attività commerciale di Ostia. Nella notte i gnoti hanno divelto la serranda di un negozio in via Diego Simonetti e dopo aver distrutto la porta d'ingresso con una pietra hanno rubato i soldi contenuti nella cassa. Voi vi siete accorti del furto questa mattina? Questa mattina verso le sette e mezza ho trovato i carabinieri qui fuori. Mi raccontava che ieri sera fino a tardi siete stati qui in negozio? Fino all'una meno un quarto, perché c'erano stati delle consegne, dei latticini e niente, adesso rifariamo tutto. Il danno è stato della serranda? Della porta e poi il fondo cassa di circa 130 euro. Quindi danno grosso è la porta, non solo i soldi in realtà. Fortunatamente i malviventi, forse disturbati da qualche residente, non hanno portato via la merce esposta all'interno del negozio. Assolutamente no, non manca nulla. Quindi sono entrati solamente per i soldi? Sì, sicuramente per i soldi. Inevitabile lo spavento per i titolari, che hanno aperto l'attività solo da poche settimane. Avete aperto questa attività da pochissimo? Da due settimane. Due settimane. E quindi, vabbè, così. Saremo più attenti. Non si tratta però di un episodio isolato. Come vi avevamo raccontato lo scorso 8 ottobre in un nostro servizio, alcuni malviventi, utilizzando sempre le stesse modalità di azione, avevano provato a introdursi in una parafarmacia di Piazza Giuliano da Sangallo. Grazie. Grazie.